Stiamo costituendo un'associazione femminile soltanto però di donne che stanno anche di stare in casa insomma donne che vorrebbero mettersi in politica qualcuno ne conosce già questo è ripeto dai mariti, noi non giungiamo no, ci sono due donne che vengono da Roma quelle che ha fatta la vice sindaco insieme a Martinelli però si è distaccata però noi ne stiamo parlando la sorella di Madonna e comunque per fare quindi questa associazione il ruolo delle donne sarebbe poi in questo c'è già un movimento nazionale che è vicino al nostro che si chiama Se non ora quando che è già proprio un movimento di donne che vogliono stare e mettili in contatto quindi proprio in virtù di fare sta sullo Se non ora quando se digiti questo ti esce proprio il sito loro tra l'altro una dei coordinatrici e la conosciamo noi e te possiamo confluire quindi fate l'associazione ma in virtù della rete nazionale non disperdiamo le forze facciamola compugliare su questo organismo su questo organismo che noi questa secondo me deve essere la capacità cioè di unire le varie forze noi perché abbiamo fatto il coordinamento? perché esistevano soltanto nel nostro territorio sulla carta esistevano 50 associazioni cioè noi le abbiamo unite tutte quanti insieme e abbiamo iniziato a fare queste cose perché c'è un po' di egoismo personale perché la singola associazione non vuole perdere quelle che diciamo la propria identità il presidente della singola associazione vuole avere il suo gruppo perché chiaramente coinvolgendo in qualcosa di più grande è come se perdesse l'identità e poi non viene qualcosa da andare a sprecare allora dico tutto questo se il territorio rimane comunque ad appannaggio di colui il quale ci vive sul territorio cioè il fatto che tu con la tua associazione per esempio entri a far parte o diventi elemento costitutivo della nuova di Alba Mediterranea che dovrebbe magari essere che vuole avere la mia ma buono diciamo poi vediamo questo non significa che la tua figura è sminuita sul tuo territorio tu sul tuo territorio rimani voglio dire il quale il coordinatore di questo movimento insieme agli altri che lo sono come te insomma no quindi assolutamente sul territorio solo che queste energie che stanno sul territorio vengono portate all'interno di un organismo un poco più completo più complesso che si presuppone che si prefigge di abbattere determinate determinate steccate determinate barriere che tu stesso individuerai di un'altra